buongiorno questo video per fare la consueta panoramica settimanale a metà settimana delle principali piazze finanziarie internazionali oggi giovedì 20 gennaio sono le 14 e 30 quindi all'inizio del pomeriggio all'inizio della seconda parte di seduta partirei come al solito dal mercato italiano il future fuzzimib che abbiamo qui davanti nel grafico con scarsione temporale e daily un mercato che effettivamente da inizio anno sta subendo una leggera pressione ribassista è possibile tracciare una trend line discendente ma non particolarmente inclinata è un mercato che fondamentalmente potrebbe definirsi laterale ribassista ribassista sì perché quota 28 mila è stata abbandonata è stata considerata una resistenza molto importante il famoso 28 mila 095 realizzato lo scorso 5 gennaio lì le quotazioni sono state respinte sono tornate verso il 27 mila dico il perché il 27 mila non è stato ancora toccato è stato sfiorato nella giornata di ieri con un minimo a 27 mila 0 90 quindi solo l'ambito per poi oggi è leggermente rimbalzare anche con una buona performance al momento quindi siamo distanti attualmente le quotazioni sono 27 mila 3 45 quindi siamo distanti dal 27 mila che è il supporto da monitorare che abbiamo alle spalle e ci stiamo comunque mantenendo al di sopra di una media mobile quindi in un certo senso stiamo mantenendoci a galla non ci sono venditori particolarmente aggressivi anche però purtroppo vero che mancano al momento i compratori direi che le ultime due candele sia quella di ieri che quella di oggi sono due pattern molto simili non sono dei doji ma sono molto simile a dei doji derivanti dall'analisi candlestiche che stanno ad indicare una generalizzata in decisione da parte degli operatori cosa attendersi nelle prossime sedute beh io mi attendo il movimento ancora laterale del mercato italiano quindi più facile lavorare nell'intraday considerando massimi minimi relativi medie mobili o altri indicatori oscillatori e quindi lavorare nell'intraday perché dal punto di vista del breve medio termine al momento manca il mercato direzionalità e quindi bisogna sempre molto stare attenti a non innamorarsi delle proprie idee né di chi è ribassista come fondamentalmente sarei io per le prossime settimane ma neanche quella rialzista perché non ci sono evidenze in questo senso credo che alla fine nelle prossime sedute la prossima settimana continuerà questo movimento laterale compreso in un ampio trading range tra il 27.000 e 0,90 che a questo punto diventa il livello per un'operatività short e effettivamente la possibilità di recuperare il livello 27.500 quindi all'interno di questi 400 punti di trading range passando al mercato tedesco il DAX principale future europeo anche qui la situazione grafica è analoga siamo arrivati dopo questa fase del mese di gennaio discendente a toccare l'indicatore super trend sul livello 15.600 che diventa a questo punto un supporto e da qui nella giornata di ieri con una sorta di doji anche qui e di rimbalzo di oggi una leggera positività di brevissimo quindi anche qui movimento laterale discendente del mercato e nelle prossime sedute questa lateralità potrebbe a mio parere continuare a meno che non venisse superata con uno slancio forte la media mobile che sta per essere attaccata proprio in una giornata di oggi e soprattutto guardarsi alle spalle la violazione ribassista eventuale e porterebbe negatività forte sul livello 15.600 quindi qui mi aspetto anche qui un trading range di 400 punti circa tra 15.500 dove sta il super trend ed eventualmente la soglia psicologica molto importante dei 16.000 che è un obiettivo abbastanza ambizioso al momento la situazione è molto diversa oltre oceano sul mercato americano dove lo standard and poor 500 invece sta decisamente scendendo nello scorso 4 gennaio inizio anno ha toccato in anticipo anche rispetto alle borse europee ha toccato il massimo storico a 4.808 da lì è sempre sceso ha tentato in 6-7 sedute di resistere alla violazione del indicatore super trend che era anche un supporto importante a 4.650 poi lo ha perso con una forte seduta negativa lo scorso 18 gennaio continuata ieri con la perdita anche del livello 4.600 e quindi molto importante non ha mai chiuso sopra e quindi anche questa è una quotazione persa e adesso siamo attorno al 4.550 vedremo se avrà la forza di rimbalzare oppure no credo di sì, credo che nelle prossime sedute sia giornate di oggi ma anche domani e anche all'inizio della prossima settimana il mercato americano tenterà un recupero visto che stanno andando un po' spaiate rispetto alle borse europee credo che ci sarà la possibilità di tornare verso il 4.600 4.600 e lui poi si giocherà questa resistenza importante per vedere se chiuderà quindi daily chiusura daily sopra questo 4.600 oppure no io credo che sia questo il livello chiave spartiacque tra positività e negatività nel breve, brevissimo, 1 o 2 sedute ci sta assolutamente un rimbalzo per andare a testare questa già citata appunto resistenza completamente diversa l'impostazione grafica del petrolio che è in trend è in trend rialzista e continua a salire nelle precedenti analisi avevamo suggerito per i più aggressivi che già a 82 quando ci trovevamo su quel livello si poteva comunque sebbene fosse alto continuare a comprare con l'obiettivo 85 dollari al barile lo ha raggiunto e addirittura superato fino a raggiungere nella giornata di ieri addirittura 87 e 91 a questo punto i più ottimisti potrebbero pensare di comprare ancora per raggiungere una soglia psicologica importante dei 90 dollari al barile io invece sarei più prudente e comincerei a pensare ad un, certamente non un'inversione di tendenza ma almeno un ritracciamento per cui su questi livelli io per le prossime sedute mi aspetto una leggera negatività che possa riportare già dai prezzi attuali 86 e 42 fino verso 83, 82 e mezzo e nella peggiore delle ipotesi qualora ci fosse una negatività più spiccata anche verso la fine della prossima settimana oppure una decina di giorni quindi un lasso di tempo un risotto temporale leggermente più lungo anche il livello 80-81 quindi direi che un pochettino questo trend rialzista perdurante così costante e così forte e inclinato credo abbia raggiunto ormai i propri target e tra long e lo short sia più probabile uno short non necessariamente ambizioso non necessariamente lunghissimo però un primo a 83 ci sta tutto un secondo verso 81 ci sta anch'esso quindi direi che sul petrolio sono più negativo e quindi aprirò appena ce ne saranno le condizioni nell'ambito di quelli che sono i miei oscillatori intraday più probabilmente quasi sicuramente posizioni short molto bene anche l'oro passando all'altra commodities che finalmente come avevamo detto nella scorsa analisi stava tutto sommato lateralizzando con un'ampia congestione vi ricorderete tra il 1780 al ribasso e il 1830 al rialzo dove c'era tutto sommato una spinta rialzista dovuto al fatto che comunque i prezzi stazionavano al di sopra di tutti i principali indicatori che utilizzo nelle mie strategie cioè eravamo al di sopra di tutti gli indicatori però il mercato ancora non andava al rialzo si è trattato di dover aspettare una quindicina di giorni e finalmente questo rialzo è arrivato e si è concretizzato proprio nella giornata di ieri con il breakout rialzista del livello 1830 sul quale sono entrato in posizione long quindi io sono long a 1830 dollari l'oncio sull'oro e mantengo questa posizione fino a 1000 la terrò quindi il mio target che mi do al momento è 1850 e poi magari si mi darà anche 1855 ancora meglio comunque come primo obiettivo 1850 quindi breakout rialzista movimento esplosivo a rialzo che può finalmente dopo una fase di congestione espletarsi e lo lascio ovviamente correre quindi sono in posizione a 1800 1830 metto uno stop loss a 1800 sul minimo della giornata di ieri sul livello 1809 1810 o meglio ancora forse sulla stessa media mobile quindi 1811 qui metterò uno stop loss e mentre invece per il resto lascio ancora i profitti fino a 1850 1855 e quindi su questa posizione aperta ci aggiorneremo la prossima settimana infine uno sguardo al mercato valutario al principe dei cross l'euro dollaro qui niente tutto da rifare l'analisi è completamente da rifare perché purtroppo la rottura rialzista che qui questo bel movimento a rialzo e di 6 7 sedute fa che ha superato il livello 1 13 85 sembrava portato verso 1 e 15 lo ha semplicemente l'ambito ha fatto un doppio massimo a 1 14 85 quasi quindi doppio massimo scusate doppio massimo qui su 1 14 85 quindi all'ambito 1 e 15 senza raggiungerlo e questa soglia ha respinto i prezzi che hanno completamente ritracciato e hanno fatto ritornare le quotazioni ancora verso 1 13 50 e ancora all'interno del trading range adesso sta lavorando la media mobile a rialzo però vedete che la seduta di oggi come quella di ieri sono semplicemente piccoli tentativi di rimbalzo in un movimento che tutto sommato è fortemente nuovamente discendente quindi per quanto riguarda le prossime sedute anche qui mi aspetto purtroppo lateralità in decisione consiglio di lavorare solo nell'intraday ma nel multiday no perché manca la direzionalità finché non mi supera al rialzo 1 14 e 83 che è questo doppio massimo che però mi sembra abbastanza lontano oppure se non mi viola al ribasso 1 13 20 che il minimo di ieri e minimo anche dell'altro ieri e quindi short effettivamente l'operatività francamente non non è direzionale quindi di difficile di difficile interpretazione io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading